La regular season è terminata ma il calcio di Serie D offre ancora impegni per ben sei pugliesi del Girone H nell'elenco delle semifinali playoff accanto a Nardofi e Delisandria, match in calendario domenica 12 maggio alle 16 con diretta tv e social su Telesveva. C'è Martina Casarano di fronte al Tursi con start alle 18, la seconda e la quinta della classe separate da 11 punti al fischio finale del torneo, 66 per la squadra di Massimo Pizzulli, 55 per quella di Giuseppe La Terza e da un finale di annata sportiva dal rendimento differente. Una sola vittoria per i rosso-azzurri salentini nelle ultime cinque giornate, il 2-1 sul Bitonto, valso il pass per i playoff, sei successi e tre pareggi negli ultimi nove turni per gli Triani, rimasti in corsa per il primo posto fino a tre giornate dal termine. Regolamento semplice in caso di vittoria o pareggio entro i 90 minuti va avanti il Martina, Casarano costretto invece a vincere. Alle 16 sarà tempo di giocarsi la stagione anche per il Gallipoli. I giallorossi salentini quartultimi in regular season avranno un solo risultato a disposizione per meritare la permanenza in Serie D sul campo dell'Angri. La vittoria esito del miglior piazzamento dei campani che hanno chiuso l'anno a 39 punti più 6 su Scialpi e compagni. In caso di parità al novantesimo previsti i tempi supplementari. Il segno X ai 120 minuti premia la squadra di casa. Alla stessa ora la team Altamura esordirà nella pull scudetto di Serie D tappa sul campo dell'Accavese, vincitrice con 78 punti del girone G per i Murgiani di Domenico Giacomarro. Per la sfida dell'Amberti, l'Altamura, vincitrice del girone H con 72 punti, rispolvererà il miglior abito stagionale. Dubbio mattera Cipolla al centro della difesa con a Diego Mobilio e lo Iodici a supporto di uno tra Saraniti e Lattanzio nel 3-4-3. Vincendo o pareggiando i biancorossi sfideranno il Trapani in casa al D'Angelo domenica 19 maggio. In caso di K.O. incrocio con i siciliani anticipato a mercoledì 15.